Siamo con Simone Carnevale del Unicredi Circo, allora voglio un commento su questa partita, come ti è sembrata, da un punto di vista esterno partita molto combattuta, equilibrata, il risultato secondo te è risultato giusto, il pareggio volevo dire, o meritavate qualcosa in più o in meno, dimmi tu. Guarda il pareggio è stato è stato giusto perché sappiamo che comunque MISP è una squadra molto forte, l'abbiamo incontrata l'andata e l'abbiamo incontrata l'andata è stata una partita difficile, hanno vinto loro e quindi ci aspettavamo comunque una partita difficile e appunto un pareggio comandata. Secondo te cosa è mancato anche in fase di costruzione, ci sono stati tanti errori sia da una parte che dall'altra e cosa è dovuto questa mancanza di precisione che si è vista un po' appunto da entrambi i lati? Ma guarda è mancato tanto l'ultimo passaggio, purtroppo non siamo riusciti a mettere i giocatori davanti alla porta per fare i gol, è una cosa che stiamo lavorando soprattutto negli allenamenti, con il MISP stiamo lavorando perfetto, ti ringrazio e in bocca al lupo allora per il proseguo. Grazie mille, arrivederci. Grazie mille, arrivederci.